C'è un modo di fare le cose che appartiene alla mia terra, che rivedo ogni volta nelle mani di mio nonno e nelle scelte di mio padre. È un modo nuovo, perché la tradizione è in continuo cambiamento, ma è anche lento, poiché la bellezza ha bisogno di tempo. È amore, perché le cose ben fatte vogliono cura. C'è una storia da cui partire. Un futuro che la mia terra non può perdere. Centro per l'artigianato digitale. Il futuro riparte da qui.